Ciao ragazzi ci vediamo questa sera 21.30 in live, rigiocheremo Uncharted 4, non mancate anche se state tutti in vacanza ma E se questo video supererà 50.000 mi piace, torniamo a farci un bel video su TikTok solo col calcio Salve a tutti ragazzi e bentorni di my show show, siamo tornati con un video sul calcio e anche TikTok Perché come promesso oggi andiamo a rivedere i TikTok dei calciatori Ragazzi tenetevi forte perché è un misto tra cose fighissime e un cringe estremo Anche perché se vi ricordate questo è stato il primissimo video che abbiamo fatto su TikTok Cioè io ho scoperto TikTok grazie ai calciatori, era meglio di no, era meglio di no Però ragazzi l'avete voluto voi e quindi sì, sì andremo a rivedere non solo i TikTok Perché non so se vi siete accorti ma tra stories, shorts, tutta la stessa mailman ragazzi Però anche i calciatori si dilettano a utilizzare i social, a condividere quello che fanno durante gli allenamenti o dopo le partite Andremo a vedere un sacco di queste cose, particolari eh, particolari E se questo video supererà 50.000 mi piace, torniamo a farci un bel video su TikTok solo col calcio Tra qualche settimana rinizieranno i campionati quindi ragazzi ci sarà tanto materiale per noi Quindi supportate il video con un bel mi piace, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video Ma adesso io vorrei iniziare con qualcosa che ho visto io Mi è capitato a me, addirittura gli ho messo mi piace per mostrarvelo ragazzi E vorrei iniziare così con uno dei difensori più forti al mondo Che è sicuramente bello carico per la nuova stagione Sto parlando di lui, Mattias Delict Ma cosa sta facendo Delict? Che stai facendo? Iniziare la settimana così? Benissimo, va bene Delict ragazzi Immaginate questo che fa sti balletti Tra l'altro la cosa bella è che questo TikTok è andato sul TikTok della Juventus Non manco il suo perché penso lui non neanche ce l'abbia Se c'è una cosa più cringe dei TikToker è il TikTok delle squadre Il TikTok delle squadre è un qualcosa di vergognoso E non so chi ci sia dietro ma è qualcosa d'assurdo ragazzi 80.000 mi piace e ce lo andiamo a vedere Dobbiamo proprio arrivare a dei mi piace ultra perché sennò la brividisco Vabbè quindi insomma Delict parte così e vai La cosa bella immaginatevi un Lukaku O no? Forse nel momento in cui uscirà questo video Lukaku non giocherà più in Serie A Beh posto raga che quando uscirà sto video può essere che neanche Messi giocherà più al Barcellona Quindi speriamo di no però vabbè sappiate sappiate Pensate un attaccante della Serie A che guarda sto video E poi insomma deve essere marcata da Delict Ma non è così cringe come quella volta che Neymar Cantò Ice e Cipecu O come si chiama con la canzone Vecchissima guardate lui sembrava un ragazzino C'è pure una bella storia perché lui fu invitato dal cantante E forse un po' del grandissimo successo che ebbe questa canzone in Brasile Questo cantante la deve anche molto a Neymar Perché Neymar quando segnava il santo Segnava e ballava faceva sto balletto così no? C'era la mossina Ai tempi non c'era T-Toc Immaginatevi sta canzone con T-Toc La fine di tutto La fine di tutto Fatto sta che insomma in un concerto lo chiamò a cantare Lui ragazzi il ragazzino guarda pulito Allora io so ragazzi che sto qua a commentare il cringe vestito come l'autista dell'autobus Non è che io abbia molto da dire però Signor Neymar Signor Neymar L'avete già vista sicuramente voglio chiudere Prima di iniziare a vederci le cose fatte bene Mancini Io dico è appena vinto l'europeo Ma puoi andare con Gianluca Vacchi a fare sta roba Cioè signor Mancini Signor Mancini Dopo la coppa europea I T-Toc con Gianluca Vacchi No signor Mancini Guarda lui proprio che sembra proprio costretto No ragazzi scusate scusate Allora questo secondo me è l'apoteosi dei boomer Non signor Mancini Grazie eterna gratitudine Sto parlando del suo amico Però secondo me regà a un certo punto Cioè secondo me a una certa età Lo smartphone te lo devono togliere Io sto quasi là eh Io sto quasi là C'hai 60 anni Devi stare su Facebook Punto Non c'è andata su TikTok Cioè immaginate regà questo tizio Gli ha dovuto fa' il TikTok Quanto stava cringeato E oi Gianluca Vacchi regà è cringe eh Non c'entra niente ma lui è veramente cringe eh Scusate eh Ogni tanto ho bisogno di un'infornata Che bello ragazzi essere reditiere io Ma immaginate uno nascere reditiere Un po' un cazzo nella vita Di anti giallo Cavacchi guarda E che fa questo? Niente Fa bene regà che vedo di fa bene fa bene Ma torniamo a noi ragazzi Torniamo a noi perché abbiamo una selezione di scherzi E cose varie dei vari giocatori Iniziamo Ci sarà tanto Paolo di San Germano Ve lo dico Infatti ecco che ha detto Che poi è una colonia brasiliana Ecco qua uno scherzo a Neymar Ok qui No Chi ha dato una pizza? No non gli ha dato una pizza Kyle Walker che fa il video Al Rosane Ma non gli ha dato una pizza o si? No non gliel'ha data Ha fatto il rumore Ah ok ok scusate Ha fatto il rumore sul vetro Perché si è andato a Rosane Dal Manchester City? Ecco Ecco perché Perché lui vuole dormire in pace Eccolo qui Neymar O no? No Venti ecco adesso canta Vabbè Tutti tutti cantano Eh no questo è un scherzo No non glielo faccio La tambra Poi mi tocca la litiga No Zuma Faceva ridere questo Zuma che fai Dai bacetti mentre dormi Oh ragà ma questo Non è quello dell'arsenal Della modalità carriera David Luiz che David Luiz che Ma no Saga Cioè li sta bullizzando tutti Ma falli dormire Ma falli dormire Poi dici Non vince niente l'arsenal David Luiz è sicuramente Quello più amato Dello spogliatoio Oh comunque ragà Ma quanto deve essere bello Essere Neymar A parte che Non so se vi ricordate Cioè lui paga gli amici Per vivere con lui E già questo Anzi meglio di essere Neymar Dovrebbe essere L'amico di Neymar Però vabbè Si diverte Gioca nel campionato Dei pesciaroli Perché voglio dire Con tutto rispetto Dei pesciaroli Perché sono molto più forti Poi i pesciaroli Che vuol di niente Però vabbè Lovren Lovren Grandissimo amico di Salah Eh Ma perché c'ha un piatto Torato con la faccia di Salah Ma perché Assano Doi Che ha fatto Ha battuto No ha battuto Kanté Ha battuto Kanté Che ha guittato Ha guittato Non ci credo ragazzi Ma Kanté No Kanté sorride sempre Infatti ha sorriso pure Vedi vedi sta a ride Verde sorride lo stesso Ma se ne va Sorrido sempre ciao Sorrido sempre ciao Ancora Neymar Che fa gli scherzi Ricordate quante volte Vi ho raccontato Dello screzio Nei marcavani Per quanto riguarda I calci di rigore Al PSG Stranno poi Vederli così no Uno pensa che si odino E magari si odiano Non lo sappiamo Che succede Quando è Mbappé Un giovanissimo Mbappé Che entra nello spogliatoio Del po' Di San Germano Ovviamente subisce Il nonismo Subisce gli scherzi Di chi c'era prima E guardate un po' Nooo Questa è vecchissima L'ho vista mille volte Gli regalano la maschera Di Michelangelo Poi in realtà Michelangelo non è Donatello Come il soprannome Per chi non avesse capito Il gioco Mbappé è soprannominato Donatello Delle tartaruga ninja Perché ho la sensazione Che tanti di voi Non conoscano Le tartaruga ninja Vabbè Avete vissuto Un'infanzia terribile Effettivamente Mbappé Assomiglia un po' A una delle tartaruga ninja E qua gli hanno fatto La maschera A far ridere Qua era giovanissimo 3 a 1 Che succede? Se ne va Se ne va Sancho contro chi? Sancho Uno vi uno Quando te pare Contro Sterling Uuuuh Uuuuh Questo è un pazzo È bei lì Vedete è bei lì Che scherzo Coibbra Non so se avete visto Che casino Che ha combinato Alle olimpiadi Praticamente mancava Un secondo Dalla fine Vince la Costa d'Avorio Contro la Spagna Non so che è successo Sinceramente Lì Se avete visto Sapete Blackout Segna la Spagna Vince 4 a 1 Ciao Costa d'Avorio Ross Barclay Che succede? Perché Delle Alli Si diverte con sto filtro? Non fa ride Delle Alli Voi dice perché non gioca più? Ma è un idiota No Ci dissociamo Oh David Luigi Pablo Marie David Luigi Ho detto Vabbè Dai godo Dagli pure uno schiaffo In faccia Oh Si gode La raga Tutta la squadra Dagli le pizze in testa Bugaio Saga Che da A Bama Young The Goat The Goat Si Gli piacerebbe Vabbè Dici aspetta Che verrà Oh Oh Gli ha tirato una stecca E rosica Martinez Giustamente Oh fermo Ma come era infortunato Che comunque Il Paris Saint Germain Non fanno un cazzo Posso dirla sta cosa Cioè non fanno niente Sono solo scherzi No perché a Torreira Gli hanno regalato Perché è piccolino Oh si dai Body shaming e bullismo Alla fine Ah nel West Ham Nel West Ham È il magazzino del West Ham Arriva il magazziniere Che è Wilshire dentro La lavatrice Nessuno si accorge Oddio Rice quello era Uno forte Ma no Alla mela Il coco la mela Se scherzi Si fanno di voi i matrimoni E ovviamente C'è delle ali Che stanno facendo il video Con quel filtro Ciccione Non fa ride Delle ali Smettila Sterling che Ha preso La simpatia Da David Luiz Questo momoreo Sveglia Da che sera mori Ancora non realizza Che sta succedendo Che è successo Lorenzo insegna Balotelli M'ho fatto paura A me O comunque Insigne ragazzi Fa sempre I stessi scherzi Perché durante tutto L'europeo Ha fatto lo stesso Identico scherzo A immobile Oh mamma mia No Però ho cercato Anche footballer Su tiktok E mosh Hanno cose Piuttosto strane Ma poi tutti Tipo dall'indonesia Cioè tipo questo Chi è Dai fammi Almeno godi Questo c'ha il pallone Oddio ragazzi Questi sembrano Tipo quelli lì Che costruiscono Le piscine Ma il pallone Non è lo stesso Ma non è lo stesso Il pallone Vabbè ragazzi Andiamoci a vedere qualcosa Sui calciatori veri Va Vedi 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 ragazzi I tiktok Delle squadre Alaba Vestito Alla Madrid Alla Madrid Se è arrivato Hanno mandato via Mezza squadra Se è andato Sergio Ramos Se ne sono andati tutti Ho fatto fallo Ma che volevi Guarda lì Mi butti fuori Sì Mi butti fuori Devi da kill someone Ah questo fu Holy shit Vabbè però Aspetta un secondo Io ho scritto Vabbè Football Giusto In America Questo è il football Quello è rimasto là Che è successo No ma C'è una musica in più C'è una musica in più Per forza Vediamo un po' Qui il signor Sonaldo Parte Palla al piede Oh diventa Super Saiyan Ultra istinto E vabbè Di averluizzo È un ex giocatore Ve l'ho detto E fa un golasso Nel derby Conto il Chelsea Che giocatore son Peccato che rimarrà da solo Che sia non un Aldo Che allaccia gli scarpini Al figlio Certo ragazzi Deve essere proprio difficile Eh sì Bruttissimo proprio Al figlio Che sia non un Aldo Però penso che lui Ti metta un po' sotto Vai vai Compleanno Andiamo ad allenare Ma papà Veramente Andiamo ad allenare E vai Via 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 Se perdete Mena pure Al letto senza cena Ma papà Ma tanto è solo Pollo in bianco No al letto senza cena Ma che tizio Ma che personaggio Guarda che personaggio Ma puoi andare in giro così Thomas Mew Guardalo Eva Guardalo Lewandowski Luido Fluidissimo Perché dovete ballare Raga fermi Fermi Non ve rovinate È super cringe Vabbè Però se lo fa Lewandowski È un conto Se lo fa Avi Martinez E' un altro Oh basta Douglas Costa Cioè questo Questo faceva ragazzi Ma rendiamoci conto Il cane dice Ma che sei così Stupido da pensare Che non te vedo Eh cioè Scusami Ah un altro molto attivo Ragazzi È lui Alfonso Davis Però ci sta Perché ha già vent'anni Ci può sta No Che faccia ste cagate No Oddio È proprio lui Guarda Con un TikTok Ha fatto di più De Don Rodrigo E invece ragazzi Ci abbiamo Joao Felix Anche lui Giovane Di Riprendila 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 Non mi fa arrabbiare Allison Oddio Ha fatto la magia Come è sparito Allison Spero che sparisca Anche il cringe Di questo video Abbiamo visto Un po' di roba Dei calciatori In alto Trovate la primissima puntata Mi raccomando Supportate la grande Questo video Nuovi video sul calcio Arriveranno Un saluto a tutti A me Ciao 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 Ciao